Buongiorno, terzo appuntamento della nuova stagione di A View From Italy, l'approfondimento di The Watcher Post, l'interlocuzione del venerdì con un ospite autorevole per affrontare temi di politica internazionale, il loro riverbero però sull'Italia e oggi è un gran piacere ospitare negli studios di Utopia il dottor Antonio Parenti che guida la rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Allora, spesso si sente a corredo delle sue dichiarazioni, dei suoi interventi questa formula, la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ci aiuti a capire in un flash qual è il cuore delle vostre funzioni? Fondamentalmente sono due le funzioni che noi svolgiamo. Da un lato informiamo i cittadini su cosa fa la Commissione Europea per loro attraverso attività dirette o attraverso i nostri uffici di comunicazione, gli EDIC, che sono un po' un'estensione del nostro lavoro e poi abbiamo un lavoro che è simile a un lavoro di un'ambasciata, anche se chiaramente non siamo un'ambasciata perché siamo in uno Stato membro, ed è il lavoro di spiegare Bruxelles agli interlocutori italiani e spiegare l'Italia ai nostri colleghi a Bruxelles. Dunque un duplice lavoro che facciamo con due sedi, una Roma e una Milano e con un forte aiuto da parte di università, centri di documentazione che sono sparsi in Italia. Inutile nascondere, questo è un tema che suscita sui social e nell'opinione pubblica grande polarizzazione. Probabilmente in questo momento, mentre stiamo parlando, ci saranno già i primi commenti di quelli più euroentusiasti, di quelli più eurocritici. Allora, io pensavo che un modo interessante di avviare la nostra conversazione è quello di focalizzarci su un aspetto che realisticamente potrebbe far contenti tutti o preoccupare tutti a seconda del punto di vista. A causa di una vicenda gravissima, il Covid, si è avuta di fatto una sospensione delle regole esistenti, patto di stabilità, eccetera. Inizia però una discussione che a molti fa venire un brivido dietro la schiena sul possibile ritorno di quelle regole o al tempo stesso sul cambiamento possibile di quelle regole, quindi un ritorno di altro rispetto a ciò che c'era. Ecco, le chiedo di scattare una fotografia sull'oggi, 24 settembre, ma anche poi di, come dire, mettere questa foto in movimento, trasformarla in un video. Che cosa dobbiamo attenderci? Beh, allora, intanto dobbiamo ricordarci che la riflessione sul patto di stabilità, sulle sue regole, su come applicare le situazioni contingenti, era iniziata prima del Covid. La Commissione europea aveva fatto una comunicazione, che è l'atto tipico suo di informazione politica, di definizione delle linee guida, già prima che voleva prendere un po' in considerazione quelle che sono state le elezioni del decennio passato. Su questo si è giunto il Covid, che ha portato ad una risposta veloce, rapida e sostanziale da parte dell'Unione europea, con modalità completamente nuove rispetto al passato. Dunque, ora si deve aprire nuovamente una fase di discussione all'interno della Commissione europea, all'interno dell'Unione europea e soprattutto anche con i cittadini. Una discussione che prenderà qualche mese, che dovrà essere lanciata probabilmente, vediamo, forse con una nuova comunicazione, forse con altri modelli, però dovrà essere lanciata una nuova definizione di come regolare, di come definire la finanza in Europa, tenendo conto sia del decennio successivo che di questi due ultimi anni e di quello che ci stanno insegnando e di come prendere questi insegnamenti e renderli fattivi, rendere il patto di stabilità che è scritto nei trattati utilizzabile in maniera efficiente e corretta per sostenere i ricicli economici. Domanda rozza, poi sta a lei invece nella risposta, diciamo, di rozzarla. Un osservatore minimamente realista dice, ma se già in passato una serie di regole ipoteticamente applicate in modo stretto, erano quasi impossibili il 60% del debito, avrebbero obbligato una serie di paesi a sacrifici enormi, ad avanzi primari, ora a maggior ragione, essendo cresciuto il deficit annuale, l'indebitamento complessivo, pensare pari pari di rimettere quelle regole significherebbe uccidere dei paesi. Secondo lei, ecco la rozzezza della domanda, c'è consapevolezza a Bruxelles e in diverse capitali del fatto che quella cravatta non sarebbe una cravatta ma un cappio? Ma io credo che la consapevolezza che queste regole, che sono regole che sono state susscritte da tutti i Stati membri in maniera totalmente volontaria, nessuno le ha imposte agli Stati membri, siano regole che abbiano dimostrato dei limiti. Sono regole che sono importanti, non dimentichiamoci che, e qui faccio un esempio relativo al nostro paese, il nostro paese è arrivato al Covid un po' con l'acqua alla gola, nel senso che non aveva un margine importante di movimento perché aveva un debito pubblico estremamente elevato. Se non ci fosse stato l'ombrello europeo in questo caso, la difficoltà del nostro paese di fare fronte alle spese del Covid sarebbero state veramente fortissime. Questa consapevolezza esiste, d'altro canto la si è superata in maniera poi anche abbastanza rapida, quando si è presa una coscienza effettiva di cos'era l'impatto del Covid, di cosa poteva essere l'impatto del Covid sull'Europa. Ora bisogna trovare un nuovo patto, se vogliamo chiamarlo così, o una nuova declinazione di questo patto che gli dia flessibilità appunto per accompagnare i cicli economici, perché non è la risposta ad una crisi, non è sempre il debito, la risposta ad una crisi non è sempre l'austerità e abbiamo visto che si può rispondere a delle crisi senza austerità e bisogna uscire da determinate crisi anche senza austerità. Però bisogna tenere presente che è sensato, da un punto di vista macroeconomico, mantenere il proprio debito pubblico entro certi limiti e rientrare nel momento di vacche grasse da un debito pubblico importante in modo tale che non si riducano le prospettive di crescita economica dei vari paesi. Non c'è dubbio sul fatto che sia per un verso la BCE, che per altro verso la sospensione di queste regole abbiano giocato un ruolo decisivo in questa fase. Procediamo, se crede, in ordine cronologico. Una domanda sul passato remoto, una sul passato prossimo e poi andiamo verso il futuro passato remoto. Adesso tutti criticano queste regole europee. Lei lo diceva, c'è un dibattito anche pre-Covid sulla non sostenibilità di quelle regole. Però se uno prende le rassegne stampa, non solo italiane, ma diciamo dei giornali internazionali di dieci anni fa, nove anni fa, otto anni fa, c'era un tripudio attorno a quelle regole. Che succede? Non erano credibili gli entusiasti di allora? Qualcuno oggi vuole obliterare il suo stesso entusiasmo di allora? Come dobbiamo guardare quelle cose di dieci anni fa? Io credo che ci sia stato forse dieci anni fa una sovravalutazione di una possibilità di rientrare in una situazione che era particolarmente complicata attraverso lo strumento del bilancio. È dunque una politica fiscale dura, non accompagnata da misure espansive, o quantomeno da misure che potessero permettere di avere quello che in inglese si chiama un buffer, dunque una specie di facilitazione per ridurre l'impatto sociale. Non dimentichiamoci che dieci anni fa, tra le altre cose, cosa successe? Successe che al lato della crisi economica e della risposta fiscalmente rigida che venne data in Europa ci fu anche un bilancio europeo per la prima volta recessivo, dunque a livello di Unione Europea si tolsero risorse all'Unione Europea, risorse che potevano essere utilizzate in maniera anti-inflattiva per facilitare questa transizione. Fu un errore? Sì, forse fu un errore, ci fu una serie di eventi, forse anche di disesperazione, non dimentichiamoci, passammo dieci anni fa, passammo dopo dieci anni di vacche grasse in Europa, di tassi di interesse estremamente bassi, che non avevano però portato a riduzioni di debito nei paesi, compresa l'Italia, che avrebbero potuto farlo. Dunque ci fu forse una reazione eccessiva, si è visto che questa reazione eccessiva forse alla fine ha più complicato la vita che risolverla, grazie al cielo questa volta è risultato la reazione dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea, della Commissione è stata una reazione diversa. Domanda sul passato prossimo, non c'è dubbio sul fatto che l'Italia sia zavorrata da due cose, crescita bassa, debito alto. Qualunque sia l'orientamento economico, culturale e politico di ciascuno. Le domando però, non le pare che nel nostro dibattito nazionale ci sia anche una certa autoflagellazione? Prendo una delle regole che poi è stata, la prendo esclusivamente come esempio, so che non era un criterio religioso negli ultimi anni, però la famosa regola del 3% deficit pill, l'Italia l'ha rispettata sempre tranne tre anni, 2009, 2010, 2011, poi il resto è sempre stata sotto. Se uno prende invece i 10-12 anni pre-Covid, la Francia 9 volte su 11 è andata sopra, la Spagna 10 volte su 11. Lei non ha la sensazione che ci sia, lo dico anche qui rozzamenti, in Italia un po' di autorazzismo, cioè questa idea del vincolo esterno per rieducare gli italiani come se noi fossimo da mettere a posto con un'autorità esterna. Io credo che ci sia forse un problema diverso, se vogliamo essere diretti, cioè il problema di una coscienza politica che ci fa posticipare la risposta a determinati problemi e piuttosto che prenderci qualche volta la responsabilità che sono nostre, preferiamo attribuirle all'Europa, al vincolo esterno, al ce lo chiede l'Europa, la riduzione del debito pubblico in Italia. No, gli altri non gliel'ha sempre chiesto. No, ma questo stiamo parlando di una reazione personale, stiamo parlando di una reazione personale, poi agli altri sì c'è una certa differenza, se lei ha una reputazione bancaria ottima, la banca dice vabbè se questo mese mi spendi un po' di più, mi risparmi un po' di problema, per l'Italia era un problema più importante, oggettivamente. Il problema era riuscire o poter cercare di ridurre il debito quando si poteva cercare di ridurre e oggettivamente la situazione sarebbe stata forse un po' più semplice anche per noi italiani. Un problema sul futuro in cui sono necessari proprio i suoi sforzi diplomatici, quindi lei ha diritto di dirmi ma che domanda mi fa. Deiure condendo rispetto al dibattito che si apre, qualcuno coglie sfumature anche non piccole tra le dichiarazioni del commissario Gentiloni e quelle del commissario Dombrovskis. Il commissario Gentiloni che con una qualche nettezza dice no, queste norme non possono né tornare subito né tornare così, il commissario Dombrovskis diciamo più Cerbero che dice no, qui prima o poi, come stanno le cose? Io credo che le cose stiano come stavamo descrivendo prima, cioè nel senso che ci sia un dibattito che deve essere fatto. È un dibattito che si fa in Europa con 27 Stati membri, con 27 opinioni pubbliche, con differenti tipi di interesse. Ed è un dibattito che deve portare ad una soluzione condivisa. Credo che sia da parte del commissario Dombrovskis come del commissario Gentiloni ci sia la consapevolezza da un lato che così come sono le regole forse non sono perfettamente utilizzabili, ma che non si può nemmeno pensare di buttare queste regole nel cestino dall'oggi al domani, perché comunque sono regole che permettono in una situazione come quella europea, dove esistono ancora 27 politiche fiscali differenti, di avere un minimo di coordinamento e una linea comune. Domanda, se uno prende gli ultimi 14 anni, allora crisi finanziaria 2008-2010, poi crisi greca, poi crisi migratoria, poi crisi Covid, gli euro entusiasti o gli euro convinti dicono beh, magari meno nell'una più nell'altra crisi, una risposta europea c'è stata, si può discutere, ma gli euro critici dicono no, quattro risposte fallimentari, quattro disastri, io non le chiedo naturalmente di scegliere tra queste due opzioni, le domando però, non ha l'impressione che l'edificio europeo sia stato pensato sin dall'inizio immaginando di dover fare i conti solo col bel tempo e non col cattivo tempo? No, non c'è questa impressione, c'è una impressione diversa, c'è un'impressione che l'Europa ha funzionato e qualche volta a mio avviso si illude di poter continuare a funzionare sulla base di questa famosa frase di Schumann che diceva l'Europa si farà attraverso le crisi e il modo in cui risponderà alle crisi, che è un modo che ha potuto funzionare, continuerà a funzionare fino a quando c'è una vera e propria coesione tra un gruppo molto ristretto di paesi. Allargandosi l'Unione Europea, allargandosi diverse sensibilità, c'è bisogno di dare un tipo di risposta diversa. Il modo in cui noi funzioniamo a livello europeo fondamentalmente su tantissimi temi è attraverso l'unanimità, dunque la Commissione può fare delle proposte ma poi i singoli Stati membri le possono bloccare. Laddove abbiamo funzionato meglio è laddove siamo riusciti a dare delle risposte maggioritarie, laddove non abbiamo funzionato, l'immigrazione per esempio, è laddove gli Stati membri possono bloccare. Questo non significa che si debba sempre e comunque lavorare con la maggioranza, con meno paesi che decidono rispetto ad altri, ci deve essere forse anche una maggiore coesione tra i vari paesi, però è chiaro che di fronte a grossi problemi se noi andiamo divisi portiamo meno risultati che se noi andiamo uniti. In questi anni quello che ha funzionato meglio di tutti sono le politiche dove si può prendere decisioni a maggioranza qualificate. Se le avessimo prese per esempio anche in materia di immigrazione probabilmente alcuni dei risultati negativi che ci sono stati sarebbero stati evitati. Le domando, c'è a suo avviso lo spazio culturale prima ancora che politico per una discussione diciamo serena, non eccessivamente polarizzata tra entusiasti lirici e critici distruttivi, ma diciamo per ragionare su tutte le sfumature intermedie di critica ragionevole o di difesa però non cieca. Ad esempio, si può a suo avviso riprendere in mano l'idea di una rinegoziazione di tutti i trattati esistenti. Allora, partiamo da un punto che a mio avviso spesso affrontiamo in maniera un po' sbagliata. L'Europa non è una religione. Non è che uno è o europeista perché nasce con un determinato crimine oppure non lo è. L'Europa è una costruzione che ha una risposta storica ai venti che sono nati e che continua a dimostrare nel corso della sua storia che è la risposta migliore a un mondo che è cambiato. C'è una altra famosa frase che dice che in Europa ci sono paesi che sono piccoli, paesi che non si sono resi conto ancora di essere piccoli e questo va anche per paesi come la Germania, per la Francia e naturalmente anche per l'Italia. Il modo di discutere il futuro dell'Europa, c'è una conferenza adesso in atto in questo momento con la partecipazione dei cittadini, deve essere un modo laico, se vogliamo dire, nel senso di una discussione effettivamente su quelle che sono i benefici sul tipo di politiche che si devono fare a livello europeo e sulle politiche che occorre fare invece a livello nazionale. Si porterà questo ad una revisione completa dei trattati? Francamente non credo. Non credo perché a i trattati non sono, che possono essere modificati. E vi perché si comporterebbe una difficoltà estremamente grande quando ci abbiamo provato la Costituzione europea, la difficoltà poi di andarlo a spiegare, di farlo capire alla grande parte del pubblico, dell'opinione pubblica, ha forse immunizzato una certa parte dei politici in Europa. Però si può fare tanto, non dico a trattati costanti, ma anche con modifiche che possono essere necessarie e io mi auguro che si possa eventualmente arrivare a delle modifiche, ma alla fine di un processo che ci dica e ci porti tutti in Europa a comprendere quali sono i vantaggi di un'Europa unita e quali sono i vantaggi di politiche fatte a livello nazionale. Due domande conclusive. Posto che si apra questa fase di discussione più complessiva o più spezzettata, più parcellizzata, a suo avviso si può procedere con ragionevolezza, tra i due poli opposti che abbiamo descritto, verso riforme che abbiano un maggiore riconoscimento delle diversità nazionali, consentendo agli altri paesi, oggi la Germania lo fa attraverso la sua Corte Costituzionale, diciamo un vaglio, uno scrutinio più severo di ciò che arriva da Bruxelles, diciamo, e che consente invece a chi vuole accelerare di accelerare, lo dico rozzamente, una UE piattaforma di servizi che offre alcuni servizi, i paesi che vogliono giovarsene e aderiscono a più punti del menù, i paesi che vogliono giovarsi di un numero minore di portate sceglieranno un po' meno. Oppure, come dire, questo ragionamento viene respinto con l'idea che l'Europa alla carta non si può fare? Ma io credo che l'Europa alla carta non è che non si possa fare, personalmente non credo che sia nell'interesse dei cittadini europei, poi naturalmente aspettare ai cittadini europei decidere cosa vogliono, per l'amor di cielo, mettiamo questo in discussione. Perché non credo che sia sufficiente? Perché l'Europa alla carta continua ad essere una risposta parziale, limitata a problemi che coinvolgono tutti gli europei. Ne faccio un esempio banale, la sfida ambientale. Non possiamo avere 27 risposte diverse alla sfida ambientale perché abbiamo un mercato unico. Non possiamo prendere dal mercato unico quello che ci piace perché facendo così rischiamo di essere anticoncorrenziali rispetto a coloro che vogliono, invece che resta in questo mercato unico. Bisogna avere un minimo di regole fondamentali, comuni e purtroppo il mondo in cui stiamo andando rende questo minimo un minimo ampio. E su queste regole c'è un vaglio, cioè un vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un vaglio serio, che si è dimostrato essere serio nel corso dei decenni e che ancora una volta è a tutela dei cittadini europei, delle imprese europee e del funzionamento dell'Europa. Credo che noi dobbiamo essere molto attenti a rimettere in discussione questo principio, non perché è un dogma, ma perché ha dimostrato nel corso dei decenni di essere uno strumento che tutela fondamentalmente i cittadini europei. Lei è chiarissimo e anche telepatico perché ha sfiorato esattamente il tema che desideravo porle da ultimo. Quando c'è stata Brexit, uno dei temi di discussione, forse decisivo nel voto dei britannici, è stato proprio lo sganciamento dalla Corte Europea di Giustizia. Allora il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, era fiammeggiante contro questa ipotesi. Oggi però lo vediamo ipotetico che hanno dato alle presidenziali francesi dire esattamente queste cose e basta con la Corte Europea di Giustizia. Forse i britannici non avevano tutti i torti. O forse Barnier è cambiato e risponde ad un'esigenza di collocamento politico interno alla Francia. Guardi, la Brexit è stato un problema grande per l'Europa da un punto di vista sia morale, perché insomma è un paese che ha lasciato l'Unione Europea, che è economico perché è comunque un paese di grande importanza. Vedremo, io non credo, siamo onesti, non credo che l'uscita della Brexit porterà nell'Inghilterra pestilenza e locuste. Non credo nemmeno che l'uscita della Brexit sia il dramma che a volte molti europei hanno pensato per l'Europa stessa. È stato un fatto storico negativo, forse più negativo per i britannici che per noi, non lo so. Io so che ancora oggi i britannici comunque alla fine per far funzionare il loro mercato, continuano a disapplicare di fatto l'accordo sulla Brexit perché altrimenti non riescono a avere le materie prime. Posso dirle che i 350 miliardi alla settimana che dovevano andare al sistema nazionale sanitario non vanno al sistema sanitario nazionale e che i costi, gli aumenti di personale che hanno dovuto affrontare a causa della Brexit sono stati importanti. È un dibattito complicato, è un dibattito storicamente complicato per l'Inghilterra, per il Regno Unito, vedremo cosa succederà nel futuro. Non credo che sia la soluzione che gli inglesi si auspicavano e forse la soluzione che alla fine avranno. Non dimentichiamoci che il voto della Brexit è stato fondamentalmente un voto degli anziani differente rispetto al voto dei giovani. In democrazia vince chi ha un voto in più. Però non dimentichiamoci che sociologicamente, e credo che sia una cosa non indifferente, i giovani avevano votato in una maniera diversa. È anche un fatto che oggi però nessuno nel Regno Unito, né conservatori, né laboristi osa nemmeno discutere di passi indietro. Invece, domanda conclusiva, la cosa su cui tutti, anche gli eurocritici, sono più invece convinti sul funzionamento del meccanismo europeo, è la carta sulla quale, mi corregga, forse si gioca meno, che è il completamento e la valorizzazione del mercato interno tra i 27, perché a suo avviso c'è poca enfasi sull'elemento che potrebbe essere più utile per l'economia e a ben vedere anche il ponte proprio con Brexit. Noi abbiamo tutto l'interesse a vendere il nostro spumante e loro tutto l'interesse a venderci le loro automobili, per esempio. Il completamento del mercato interno ha fatto passi da gigante su tutta la parte industriale. La parte più complicata è la parte dei servizi e questo ha tante ramificazioni, ha la ramificazione relativa allo spostamento delle persone, ha la ramificazione relativa all'incentivo della concorrenza. Sono materie nelle quali oggettivamente la discussione tra gli Stati membri è complicata perché come sempre in politica chi perde qualcosa ha una voce più importante rispetto alla massa che riesce a guadagnare. Non è una discussione facile ed è oggettivamente un passaggio che dovremmo continuare a fare. Non è il solo, non credo che sia la risposta a tutti i problemi che noi abbiamo in Europa, però è una risposta che effettivamente dobbiamo anche dare. È stato un gran piacere e lo ringrazio in modo speciale avere in questa trasmissione in View from Italy il dottor Antonio Parenti che guida la rappresentanza della Commissione Europea a Roma e in Italia. Speriamo ci sia presto l'occasione perché in questa conversazione c'erano diverse strade che meritano ognuna di essere percorsa. Grazie a chi ci ha seguito, grazie agli Utopia Studios e noi ci rivediamo venerdì prossimo. Grazie e buon fine settimana. Grazie a voi.